Si è tolto la bandana, ecco la sola sinistra, bandana e gli occhiali via! E' un po' di più, è un po' di più! E' un po' di più, è un po' di più! E' un'idea di chiunque, e' un'idea di chiunque, e' un'idea di chiunque. Scatta Marco Pazzani, l'ennesima accelerazione in questo Tour de France, e' rientra Lance Armstrong. Parte Pazzani, che potrebbe fare il vuoto, vediamo, Eras sicuramente non riesce a rispondere. Quindi Menes davanti con Pantani, che è riuscito a staccare Armstrong, e adesso il vantaggio aumenta, e' decisamente aumentato, e' di 200 metri su Eras. Conquistero la folla. Conquista la folla, e conquisterai la libertà. Armstrong, che ha cercato di tenere la sua ruota, e poi a un certo punto, anche l'americano ha alzato bandiera bianca. Conquistero la folla. Conquistero la folla. Conquista mi amava. Conquista la folla, e conquisterai la libertà. Grazie a tutti.